Sì, è tornato il ciak finalmente. Sigla. Hello, bentornati o benvenuti sul mio canale, amici. Quello di oggi è un episodio di fantarchitettura del tutto anomalo. Perché parleremo di un film, sì, ma non esploreremo nessun mondo né fantasioso né fantascientifico. In effetti era un po' titubante nell'inserire questo episodio all'interno di fantarchitettura. Ma poi ho pensato che in realtà il contenitore era poco importante. Perché la cosa veramente importante era che io parlassi assolutamente di questo film, ovvero di Parasite. Ma prima di iniziare a parlarne, devo ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso. Cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati sull'uscita di tutti i video futuri. In più seguitemi su Facebook e Instagram, dove possiamo interagire e decidere insieme gli argomenti da trattare qui sul canale. Orsu! Seguitemi, grazie. Piccolo disclaimer, probabilmente pronuncerò tutti i nomi male. Ma non ho mai studiato il coreano, ovviamente. Quindi abbiate pietà di me, ok? Bene. E dunque amici, Parasite, film coreano, anzi per l'esattezza sudcoreano, del 2019, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes, è candidato agli Oscar in ben sei categorie, tra cui miglior film, miglior film straniero, miglior regia e ovviamente miglior scenografia. Più altre nomination, che non sto qui ad elencarvi. Con la regia del sudcoreano Bong Joon-ho, Parasite è una mara dark comedy con un risvolto decisamente thriller, in cui non mancano grossi colpi di scena e anche qualche risatina a denti stretti. Ma soprattutto Parasite è un'opera che io definirei lirica, una danza tra due gruppi di personaggi che costruiscono una trama complessa e originale su quello che è un grande palcoscenico. Uno spazio incredibilmente studiato e calibrato proprio per guidare la storia. Storia che ovviamente non vi racconterò perché, hey, non siamo qui a Fantarchitettura a raccontare storie, bensì luoghi e idee. Quello che però vi posso dire è che si tratta di una storia molto avvincente, che nonostante io l'abbia visto in coreano con i sottotitoli, non mi ha mai annoiata nemmeno per un istante. E' che questo è possibile solo grazie ai dialoghi e ai personaggi, che sono caratterizzati impeccabilmente, ma anche e soprattutto grazie alla narrazione, condotta grazie all'uso degli spazi, cosa che rende il film inusuale e difficile da dimenticare. Su Parasite si possono dire davvero tante cose e ognuno può leggere il significato che vuole. Prendete ad esempio, non so, la storia della pietra, e chi ha visto il film sa a cosa mi riferisco. Ma quello che certamente è saltato agli occhi di tutti è l'importanza, il ruolo fondamentale dato all'architettura. Chi ha visto il film avrà infatti sicuramente notato che, fatta eccezione per qualche minuscola scena, di rilevanza minore, il film prevede solamente due ambientazioni. La casa semi-interrato dei key tech, la famiglia poco ambiente del film, che cerca di guadagnare prestigio sociale grazie ad una complessa e macchinosa truffa, quasi perfetta, direi, quasi, è la splendida casa dei Park, famiglia ricca, con due figli viziati, di cui uno con strane velleità artistiche, una moglie bella e sempre perfetta, e un ricco imprenditore nell'ambito della tecnologia come capofamiglia. Ebbene, questi due spazi sono davvero i due grandi protagonisti della storia. Due macro personaggi che rappresentano esattamente la condizione sociale ed economica dei propri abitanti. Due personaggi decisamente mutevoli, che pur rimanendo lì fermi, immobili, in realtà cambiano forma, si restringono e si dilatano. E ogni volta che lo fanno, oltre alla propria forma, cambiano e ampliano anche la storia che prende atto al loro interno. I due ambienti sono effettivamente l'emblema della dicotomia, che padroneggia per tutta la durata del film, ovvero la ricchezza col prestigio sociale annesso e la povertà. Da un lato troviamo il semi-interrato bassissimo, sotto la quota della strada, uno spazio effettivamente non troppo piccolo, ma estremamente frammentato, anche in maniera piuttosto bizzarra, oserei aggiungere, in spazi più piccoli e ristretti, soffocanti e pienissimi di oggetti. Questa densità di oggetti è infatti la rappresentazione metaforica della densità abitativa dei sobborghi della città e delle città coreane in generale, dove le famiglie si ammassano, vivono e spesso lavorano anche tutti nello stesso minuscolo ambiente. E a questo proposito mi piacerebbe riportarvi esattamente le parole del regista, che dell'aspetto del semi-interrato dice, riflette realmente la psiche della famiglia Kim. Sei ancora per metà fuori dal terreno? Così c'è questa speranza? E questo senso che puoi ancora avere accesso alla luce del sole? E non sei ancora completamente caduto nel fondo? Nella cantina? Questa strana mescolanza tra la speranza e la paura, che puoi cadere ancora più in basso? Penso che questo realmente corrisponda ai sentimenti dei protagonisti. E devo dire che cinematograficamente e metaforicamente la resa è esattamente questa. In più c'è da dire che il quadro del quartiere e anche della casa dei Kitech è stato comunque volutamente un po' esasperato. Il regista, pensato un po', ha voluto che dei disegnatori andassero in dei reali quartieri periferici, suburbani a catturare la vera essenza di questi luoghi, su carta. E che poi da quei disegni, quindi già da un'interpretazione artistica che può essere più o meno realistica, venisse poi creato il set del film. Gli ambienti risultanti sono ambienti coloratissimi, che però costituiscono un unico grande scenario dove niente la fa da padrone. Un grande scenario che pure essendo caotico ed eccessivo, non è mai invadente e non distrae mai lo spettatore dagli attori che sono in scena in quel momento. Infatti, paradossalmente, la casa più povera, nonostante sia così ricca di particolari, è sempre molto schietta e aperta alla visuale. Non c'è mai un lato nascosto, non c'è mai un personaggio celato da qualche parte. È tutto estremamente allo scoperto, sincero, genuino. Cosa che non si può certo dire della casa dei Park, che nonostante sia talmente minimalista da risultare quasi un po' spoglia, al limite dell'essenziale, è piena di scale, pertugi e luoghi che potremmo quasi definire un po' oscuri. Aggiungo una piccola curiosità che chi ha visto il film sicuramente capirà. Lo sapete che il set della casa semi-interrato è stato costruito direttamente all'interno di una piscina? Ma spostiamoci nella seconda ambientazione, la casa dei Park, ovvero quella che è la location principale del film. Si può dire che la casa dei Park sia la vera protagonista indiscussa di questo film, all'interno della quale i personaggi, tutti, non solo i poveri, ma anche i ricchi, sembrano effettivamente dei parassiti. Secondo me, infatti, il titolo del film si riferisce sicuramente alla condizione sociale dei protagonisti, ma anche al modo di vivere, abitare, agire e, direi, infettare, l'abitazione dove si svolge la gran parte della trama, ovvero appunto Casa Park. La casa è una meravigliosa abitazione unifamiliare, contemporanea, minimalista, dalle linee pulite, dalle geometrie semplici e dai materiali selezionati e di pregio. Dai grandi spazi lasciati vuoti, capaci da soli di raccontare una storia senza l'aiuto di orpelli o decorazioni. Insomma, un'architettura davvero elegantissima, degna di apparire su una qualunque rivista di settore, progettata e in seguito anche abitata fino alla propria morte dall'architetto Nam Gong Hyonya, che in realtà è un architetto del tutto inventato, che non è mai esistito nella realtà. E sì, amici, perché in realtà anche la casa non esiste, giuro, non esiste, ma è stata completamente creata in uno studio cinematografico con il solo scopo di ospitare al suo interno le riprese di Parasite. La morfologia, i colori e i materiali sono stati pensati esclusivamente in relazione alle inquadrature, alla fotografia e alle metafore su cui gioca il film. Ogni dettaglio, ogni immobile è orchestrato ad hoc per servire storia e personaggi. Pensate che persino l'impianto elettrico gioca un ruolo fondamentale nella narrazione e nella simbologia di questa pellicola. Insomma, questa casa è stata disegnata appositamente per essere uno strumento di scena e non soltanto una semplice scenografia. E voi direte, sì, ok, è finta, ma qualcuno lo avrà pur firmato questo piccolo gioiellino di architettura fasulla. Ebbene, amici, ovviamente sì, e si tratta proprio di un concept che è partito proprio dal regista Bong Joon-ho, il quale ha personalmente appozzato le piante dell'abitazione, affidando loro il compito di ospitare la storia e gerarchizzare i personaggi. Il design effettivo e la realizzazione, poi, sono stati affidati allo scenografo Li Ha Jun, il quale comunque si è avvalso dei consigli di un suo amico architetto. Anche se questa in realtà è una storia curiosa, perché dovete sapere che questo amico, quando Li Ha Jun gli presentò i primi disegni, dichiarò che mai e poi mai quella casa sarebbe stata effettivamente vivibile, abitabile e fruibile da una famiglia. Eppure lo scenografo continuò imperterrito per quella direzione, in primo luogo, per soddisfare il volere del regista, che aveva previsto quegli spazi non per essere abitati, certamente, ma per agevolare la sceneggiatura, le riprese e la fotografia del film, cosa che in questo caso era ben più rilevante, e in secondo luogo per accontentare un suo piccolo capriccio. Egli infatti ha pensato ai due ambienti del film, scavando nelle proprie esperienze personali. Il seminterrato assomiglia moltissimo al seminterrato che abitava con i suoi coinquilini al tempo del college. E la casa dei park è praticamente la sua casa dei sogni, con la forma, l'arredamento e le finiture che ha sempre desiderato. E infatti vediamo dei dettagli di design impeccabile e anche opere d'arte di un certo valore, come per esempio il grande quadro in salotto, che è un quadro fatto da un artista reale, ovvero Seung Mo Park, che vi consiglio di approfondire perché fa delle cose veramente, veramente interessanti, utilizzando dei materiali decisamente insoliti. E chissà che dopo il successo di Parasite, Li Ha Jun riuscirà davvero a realizzarsela alla sua casa dei sogni. Magari così, anche se spero che questa volta si avvalga effettivamente dei consigli del suo amico architetto. Ma stiamo un po' divagando. Come dicevo prima, il regista ha personalmente pensato ad un ambiente che garantisse il fiuso della storia, sì, ma che gerarchizzasse anche tutti quanti i personaggi. E sì, ovviamente lo fa in entrambe le case, ma soprattutto in casa Park, che nonostante gli ampi spazi, si può dire che abbia degli sviluppi sempre verticali. Al piano terra, ovvero il piano zero, si svolge l'intera finzione, la truffa. Al primo piano invece si svolge il tentativo di scalata sociale dei due giovani fratelli Kim, iniziato già con il primo gradino, ovvero il salire al primo piano, sia materialmente che metaforicamente parlando. Mentre al piano meno uno succede il peggio e tutti i personaggi, quando vanno lì, regrediscono, sia in termini di ceto sociale che in termini di vera e propria civiltà, dando sfogo agli istinti più primordiali di pure e semplice sopravvivenza animale. E questa verticalità nell'evoluzione dei personaggi, che si riflette nella verticalità di casa Park, è fortemente voluta e ricercata nel film. Tutti i personaggi non fanno che salire e scendere scale, continuamente. Scale che collegano i vari livelli di questa architettura, livelli architettonici che però corrispondono ai livelli sociali ed evolutivi. Persino il tavolo del salotto, che ad un certo punto del film ha un ruolo abbastanza rilevante nella narrazione, è materialmente una sorta di strana scala più livelli fatta di legno. Insomma, ogni volta che un personaggio sale dei gradini fisicamente, la sua condizione sociale e di personaggio all'interno del film migliora. Ogni volta che li scende, la condizione, la sua situazione in relazione alla trama e agli eventi della storia, peggiora. E se vogliamo ingrandire un pochino la scala, allontanando un po' lo zoom da casa Park, ogni volta che i Kim devono raggiungere i quartieri alti per recarsi a lavoro, vanno sempre in salita, anche in questo caso salgono le sponde della collina sulla quale è adagiata la città. E tra l'altro, se ci fate caso, vengono ripresi sempre dall'alto verso il basso. Quasi ad enfatizzare e sottolineare la loro posizione rispetto alla scena. E questa gerarchia urbana, questa simbologia, tradotta in luoghi in cui troviamo i poveri in basso e i ricchi in alto, la incontriamo in un sacco di altre storie cinematografiche. E se volete un titolo su tutti, in Metropolis, a cui abbiamo dedicato un video, e sì, ve lo linko qui su. Una simbologia abbastanza forte, probabilmente anche perché abbastanza usuale, quindi ben inserita nell'immaginario comune, e comunque molto molto efficace. Ora, io non voglio fare spoiler, e non li farò, ma può essere, e dico può essere, che a un certo punto del film, pensiate, e se questo continuo salire scale, non porti poi a nulla come se fossero delle scale che un tempo si costruivano verso il cielo, come una piramide maya, che si presumeva portasse ad un regno divino, un luogo dei cieli, ma che in effetti non porta fisicamente a nulla, se non solamente ad un'intera visione globale, distaccata e decisamente dall'alto delle cose, eh? Beh, io. È un'interpretazione che prendere in considerazione. Pensateci. Ebbene amici, in conclusione, lasciatemi fare delle ultime considerazioni. Io credo che questo film sia un capolavoro, un piccolo gioiellino della cinematografia mondiale. L'eleganza e la delicatezza con cui si svolge una trama che, sicuramente con altre produzioni, provenienti da nazionalità diverse, e non faccio nomi ma avete capito a cosa mi riferisco, avrebbe fatto molto più chiasso e più spettacolo. Unite alla incredibile attenzione per i dettagli e la squisitezza dei simboli e delle metafore, lo rendono, sinceramente, uno dei migliori film che abbia visto nell'ultimo periodo. E non lo dico così per dire, lo credo davvero. Ma soprattutto l'utilizzo di una cosa che generalmente viene lasciata in secondo piano, come la scenografia, usata come attrice, non dico principale, ma quasi, gli fa conquistare almeno un milione di punti in più. Tutto è pensato, calcolato e armonizzato alla perfezione. Basti dire che molti spettatori e addirittura alcuni addetti ai lavori e alcuni critici, a visione ultimata, pensavano che i luoghi fossero addirittura reali. E questo per me vuol dire solamente una cosa. Credibilità. Ora, io non sono affatto una critica cinematografica, e probabilmente non ne capisco granché, però di film ne ho visti parecchi. Dai blockbuster al cinema d'essere. Sicuramente sono un'appassionata. E per me l'aspetto più importante, da semplice spettatrice attenta, è che il prodotto sia credibile. Sia se è una storia vera, semplicemente verosimile, o completamente fantasiosa, immaginaria. La credibilità serve ugualmente, ed è l'unica cosa che ci permette di immergerci veramente nel film, dimenticando la realtà. E che ci accompagna all'interno delle menti e dei cuori dei protagonisti, per lasciarci assorbire dalla trama, dalle loro sensazioni, e anche dalle ambientazioni. Se non c'è la credibilità, un film può essere anche girato tecnicamente bene, ma rimane solamente un racconto sterile, che probabilmente dimenticherete dopo qualche giorno dalla visione. Poi sì, ovviamente un bel film deve essere anche un prodotto bello da vedere, fotograficamente accattivante, e ben confezionato per riuscire a trasmettere un determinato stato d'animo. Beh amici, quello che io posso dirvi è che Parasite racchiude al suo interno valanghe di credibilità, nonostante la storia sia davvero assurda, ed è bello, bellissimo da tutte le angolazioni, ve lo assicuro. Va bene amici, anche oggi mi fermo qui. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like di supporto, ma soprattutto se avete visto il film, e avete notato ulteriori dettagli, o magari non siete d'accordo con le mie osservazioni, o addirittura con le nomination agli Oscar di questa pellicola, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando. In più continuate a supportare il mio lavoro, iscrivendovi a questo canale, seguendomi sui social, e dando un'occhiatina al merchandising, nel link in descrizione qui sotto. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, e vi do appuntamento. Alla prossima avventura. Ciao! Alla prossima avventura. Alla prossima avventura. Grazie a tutti.